Allora, questo è il controllo post-operatorio della correzione eseguita dal dottor Caprio. Qui vediamo come la deformità che aveva definito Adele non c'è più, quindi adesso è tutto perfettamente in asse. E il secondo dito ha lo spazio proprio, cioè non è più rubato dalla deformità del primo raggio. E quindi adesso vediamo tutte le ossa del metatarso riallineate. E qui lo possiamo vedere anche in una proiezione che non è proprio una proiezione laterale, ma leggermente obbliga. E anche qui si può apprezzare la correzione avvenuta.